per me sì bello tranquillo che ci aspetta lo spaghettuccio ragazzi siamo a terracina e stiamo facendo mammolini un sentiero che ho fatto solo una volta ma non mi ricordo di particolari difficoltà se non per le pietre che qui in questa zona ci sono eh sì eh sì eh sì ragazzi ammetto la mancanza Giuseppe apri vista sì sì sempre dritto e chi che se lo ricordo io una volta solo ho fatto forse era da destra ma penso che sia uguale i local ci parlavano di passaggi di mucche che ci avrebbero rallentato ma no in realtà tutto bello grezzo ma ci piace a noi vabbè ma qua buonci buonci oh oh anche bambolini al suo perché giuseppe si 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 qua qua ok e ma noi non siamo sbucati dall'apero oh oh l'isci 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 i buchi ho sbagliato io quando vedo roba tendo sempre ad andare dritto a tagliare invece molte volte dovrei fare la curvetta tipo qua iiii e tutte le cose gli devi dare cos'è le mani distrutte ora ci siamo riusciti finalmente l'isci